150 bambini abruzzesi oggi dal Papa a Roma, 84 paesi rappresentati. In occasione dell'iniziativa i bambini incontrano il Papa, con 7.000 piccoli dal Pontefice. Il vettore di questo viaggio speciale è il gruppo di ferrovie dello Stato attraverso Trenitalia e Bossitalia, 18 i treni straordinari e 20 i autobus speciali. Dall'Aquila sono partiti dal piazzale di Meridiana due autobus di Bossitalia, un altro è partito da Teramo. Una giornata speciale, quella dedicata ai bambini, ma anche un'opportunità che gli accompagnatori per riscoprire l'importanza della pace, dei sorrisi, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono dare. Il gruppo FS ha dato una grandissima mano a questo bellissimo evento, perché è bellissimo innanzitutto, perché sono i bambini, sono i giovani, i ragazzi, proprio i bimbi che si avvicinano, incontrano il Papa, il Papa gli dedicherà veramente tantissimo tempo. È bello avere i bambini sul treno e come abbiamo aiutato noi questo evento? L'abbiamo aiutato proprio mettendo a disposizione ben 18 treni e 20 autobus che da tutte le parti d'Italia hanno portato questi bambini in Vaticano. E non solo ci fermeremo alla stazione di San Pietro, ma entriamo proprio con un treno simbolo dentro al Vaticano, quindi dentro la stazione del Vaticano. Felici anche i genitori per la giornata indimenticabile dei loro bambini. Beh sì, è un'esperienza per loro indimenticabile, anche per noi genitori, perché comunque abbiamo fatto una scelta di istruzione indicizzata su quella che è la vita cristiana. È un'occasione per loro perché si appropriano un po' alla comunione, sono i bambini di quarta e di quinta elementare, almeno per la nostra scuola, quindi sì, è una bella esperienza.